grazie il secondo posto c'è Ivan che nel tempo perso sono riuscito anche a partecipare che si prende l'associazione per un anno al Kuluk e una peglienta e poi c'è il primo lassificato che è G7 mi è Eugenio che si prende un anno di associazione al Kuluk e poi il premio dello sponsor che glielo dà lo sponsor grazie è un altro premio grazie grazie grazie